Giuseppe ci assicura che domani la maggior parte dei tedeschi sarà impegnata nell'evacuazione di Terracina. Saranno in pochi a sorvegliare il granaio. Ma in tutto quanti saranno? Di solito una dozzina, ma domani non saranno più di quattro o cinque. Più Sergio? È sempre stato dalla parte sbagliata. Ma sei sicuro che il resto dei tedeschi sarà Terracina? Non spero. Dobbiamo rischiare. Coraggioso il fratellino per essere il primo giorno, eh? Stesso sangue. Forza, ragazzi. Oh, fuori è tutto a posto. Paura? No, io invece sì. La paura ti protegge le spalle. Ma cosa? No, tu hai un glück. Ma sei o'altro, no. Ma sei o'altro, ma sei o'altro? Ma tre cinque no me. No, tu non sei sempre un schwein. Ah, cinque. Nasist. Bello, non diri. Esi in si, ho gewonnen. Siamo presto. Aiutami! Ce ne ce l'ho gli altri! Tutto quello che possiamo prendere, forza! Dove li mettiamo? Ammucchiamoli qui! Vai! Aiutami! Guarda, forza! Ammucchiamoli ancora! Forza! Sbrigiamoci! Sbrigiamoci! Lui vedi che serve aver paura? Andiamo, andiamo ragazzi! Continuiamo, continuiamo! Inqu边! Grazie a tutti.